Questa mattina c'erano ancora le tracce di sangue sull'asfalto vicino ai cassonetti della raccolta rifiuti. Notte da incubo in via Ponchielli a Porto d'Ascoli dove a pochi passi dalla centralissima via dei Mille, quindi non lontano dal lungomare sud, è sorto un alterco degenerato poi in un accoltellamento. Quattro i protagonisti, da una parte padre e figlio del posto, dall'altra un uomo di origini campane ed un albanese. Quest'ultimo ha affrontato il giovane del posto ma l'alterco in poco tempo ha coinvolto anche i rispettivi accompagnatori. Al culmine della lite il padre ha prelevato dalla propria auto un coltello a serramanico con cui ha colpito uno dei due contendenti. Il ferito, di 38 anni, ha perso molto sangue e soccorso dall'albanese e è stato caricato in macchina per essere trasportato in ospedale. Il conducente, giunto in via Togliatti, ha richiesto l'intervento del 118 forse pensando di non riuscire ad arrivare in tempo. I sanitari hanno trovato il ferito in macchina seduto con la ferita all'addome. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato al Madonna del Soccorso. Il 38enne è stato operato d'urgenza, ora in prognosi riservata. Ancora da chiarire il movente. Ad indagare sono i carabinieri di San Benedetto agli ordini del comandante Marco Vanni. I tre coinvolti nella rissa sono stati arrestati e tradotti nella casa circondariale di Marino del Tronto. Tutti e quattro, compreso il ferito, dovranno rispondere di rissa aggravata. Per il padre, che ha colpito con il fendente il 38enne, l'accusa più pesante, quella di tentato omicidio.